eccoci qua alza il volume un grido di battaglia per parlare di libri oggi parleremo di questo libro il numero è nulla di antonio monda ebbene in queste pagine l'autore ci accompagna nella vita di un cellular killer nei suoi ragionamenti nei suoi pensieri nei suoi propositi nei suoi modus operandi davvero ve lo consiglio e visto che ci siamo vi consiglio anche il mio ultimo libro money man è semplicemente un atto d'amore verso genova alla prossima